Musica E avete fatto un buon lavoro Ci sono stati tre video Quindi quello di Detarro Detarro Che è fuori tema Perché c'è il video riguardante i giochi E lui mi pubblica queste cose qua Bravo per l'impegno Perché mi ha ricevuto anche tempo a farlo Ma mi dispiace Sei fuori Secondo video che non va bene E' quello di Agro Moderni Diario di un agricoltore Eccetera eccetera Era un video già fatto E quindi non fatto apposta per il contest Quindi viola una delle regole Quindi non posso accettarlo La stessa cosa per The Heroin Mat Che ha fatto il video il 23 E il contest l'ho pubblicato il 29 Quindi mi dispiace ma non posso accettarlo Potevo accettarlo se nel video Dicevi che era un video per il contest Ma mi dispiace Anche questo sei fuori Bene ho qui la lista diciamo con i vincitori Parto dal quinto posto con Francesco Bello Ho scelto il quinto posto Perché ho utilizzato Farming 2011 Allora siccome erano tutti di Farming Sono andato a premiare quello Insomma il video più bello Essendo del 2011 Un po' vecchiottino Quindi sei stato un pelino Proprio un pelino penalizzato Perché eri alla pari con un altro Comunque adesso Io dico Insomma I posti Poi vi do anche Qualche consiglio O qualche critica Che secondo me Secondo il mio parere Allora Bel video Belle mod Soprattutto appunto La John Deere E Sì si è stato un po' penalizzato Per il fatto che era del 2011 Comunque bravo E continuo così a far video Ma eri anche Del 2013 E più recenti Poi abbiamo il quarto posto Con Francesco Cirelli Su lavori su neve Con Farming Simulator 2013 Eccolo qui E Sì Lavori su neve Era L'ho trovato un po' Sì originale Per essere originale Perché nessuno ha fatto Lavori su neve O comunque pochi hanno questa mappa E Sì Hai girato un po' E ho sperato un po' di neve Ma Nel succo Non ho trovato Insomma Quello Quello che era Comunque Sì Hai fatto un buon lavoro Diciamo Forse se utilizzavi magari qualche altro trattore Qualcosina in più Potevi arrivare Forse anche al terzo posto Ma comunque Hai fatto un buon lavoro lo stesso Poi Al terzo posto Abbiamo RobyBretz81 Video Bello E' stato penalizzato Per le foto Perché Appunto come avevo detto Uno che fa un video Nel senso che riprende Quindi registra Con fraps Poi monta Richiede secondo me Più impegno che Prendere comunque Delle foto Metterle Diciamo Su programma Mettere qualche Qualche effetto grafico Qua e la E dopo Insomma E dopo Darle a Quindi Belle mod Questo devo dire Si è impegnato Anche Però Non abbastanza Per arrivare Tra i primi due posti Secondo posto E qui comincia A salire La tensione Abbiamo Ozzy Ozzy Shock Che praticamente Ti ho scelto Come secondo posto Che eri Proprio Ero alla pari Ero indeciso Tra Roby Brezzo 81 E Ozzy Shock Ho scelto Ozzy Shock Per chi ha fatto Il video E non La raccolta foto E Molto Si Molto bello Il video Poteva essere Arricchito Con Qualcos'altro Comunque Molto bello Poi abbiamo Anzi Mi sono Dimenticato Di Mr. Corbo 91 Che va Si Andrebbe Al quinto posto E quindi Francesco Bello Scatta al sesto posto Che mi sono Dimenticato Scusate Molto Penalizzato Dalla grafica Perché veramente Si vedeva malissimo Ho fatto fatica A vederlo E Diciamo che Se nel tuo parco macchine Avessi avuto Qualche mod in più E magari Un computer In grado di Riprendere Almeno qualcosina Dal Insomma Dal schermo Dal gioco Secondo me Potevi salire Di più In classifica E Comunque Si Diciamo che Rivedendo La classifica Che dopo Vi metterò Alla fine Perché sto ancora Adesso Pensando Qui e lì Diciamo che Vai al quinto Al quinto posto Se non al sesto Perché Francesco Bello Comunque Si Ha una grafica Migliore Perché Una volta Visti Insomma Quelli che È l'argomento Delle cose Vado a vedere La grafica Del video Come è fatto Come è strutturato Eventuali canzoni Che avete messo Eccetera Quindi L'ho scelto Per questo Per la mappa Perché Mi piace Mi è piaciuta Per le mode Che ha Quindi La vastità La vastità Di cose Che ha E anche Come un po' Strutturato Diciamo Che poteva Arricchirlo A mio parere Potevi arricchirlo Un po' Di più Mettendo Qualche Canzone Di sottofondo Perché Ok Sentire un po' Il rumore Dei mezzi Però Con qualche Canzone In più Il video Poteva Riuscire Meglio Comunque Per il primo E il secondo Posto Quindi Killer Clock E Otsishock Farò Per Killer Clock Farò un video Solo per lui Di sponsorizzazione Mentre Per Otsishock Metterò Il link Insomma Del suo canale In due video Quindi Sempre un po' Di pubblicità Oppure Adesso Sto ancora pensando Potrei sempre Fare un video Di pubblicità Quindi Ripetiamo La classifica Abbiamo Al primo posto Killer Clock Con Il suo Parco macchine Secondo posto Otsishock Terzo posto Robby Brez Quarto posto Abbiamo Francesco Cirelli Quinto posto Abbiamo Francesco Bello E sesto posto Mr. Corbo 91 Che mi spiace Ma Non era Il video Non era Fatto bene Secondo me Potevi far qualcosa Di più Mari Facendolo Più corto E Mari Facendo Per esempio Una raccolta Di foto Mari Se avevi Qualche mode Bella Potevi avere Qualcosa Di più Comunque Vi ringrazio Veramente Per aver Partecipato Grazie 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 Ancora Adesso A breve Appena un attimo Di tempo Farò Il video Di ringraziamento E Continuate Così A fare Video Perché È con Gli errori Che si impara Basta andare A vedere I miei primi Video Che erano Uno Uno Sfacello E Con il tempo Con il tempo Si cresce Io sono partito Come tutti Da zero Iscritti E dopo Neanch'io Me l'aspettavo Con un video Ho cominciato A salire E adesso Sto ancora salendo Sono 611 612 Quindi Vi ringrazio Per la partecipazione Il contest Finisce qui Ovviamente Ce ne sarà Uno A 1000 Iscritti Penso E quindi Grazie a tutti E al prossimo video Ciao